salve a tutti ragazzi e ben ritrovati per questo nuovo esercizio sulle equazioni letterali questa è un'equazione che ricorda molto quello che poi si troverà studiando geometria analitica ma non vi anticipo nulla quello che andiamo a fare qui è la discussione di questa equazione di secondo grado letterale vi ricordo che possiamo subito dire che se m più 1 fosse uguale a 0 avremmo un'equazione di primo grado perché in quel caso avremmo m uguale meno 1 e se m uguale a meno 1 avremmo qui al posto di m metto meno 1 ottengo meno x meno 1 uguale a 0 ovvero x uguale meno 1 perciò questo se m uguale a meno 1 se m invece è diverso da meno 1 calcolo il delta uso le lettere maiuscole per noi a è uguale a m più 1 p è uguale a m e c è uguale a meno 1 perciò il delta sarà p al quadrato meno 4 volte a c meno meno per meno fa più perciò più 4 volte m più 1 questo ci dà m alla seconda più 4 m più 4 sappiamo scomporre questo polinomio è il quadrato di m più 2 cosa possiamo dire che questo delta è sempre maggiore o uguale a 0 ora guardate potremmo addirittura studiare quando il delta è uguale a 0 oltre che il delta maggiore di 0 ma in realtà a noi interessa che il delta sia maggiore o uguale a 0 per avere soluzioni e dal momento che il delta è m più 2 alla seconda questo è sempre maggiore o uguale a 0 ora noi potremmo vedere quando è che abbiamo una sola soluzione ovvero due soluzioni reali coincidenti quando m più 2 è uguale a 0 ovvero quando m è uguale a meno 2 ma questo è poco rilevante nel nostro caso perché l'importante ripeto è che il delta sia maggiore o uguale a 0 possiamo calcolare x1 x2 meno b più o meno la radice quadrata di delta che ovviamente ci dà come risultato m più 2 perché è la radice quadrata di un quadrato diviso due volte a questo va diviso nelle due soluzioni meno m meno m meno 2 diviso 2 che moltiplica m più 1 meno m più m più 2 diviso 2 che moltiplica m più 1 e allora qui semplifichiamo qui otteniamo meno 2 m meno 2 diviso 2 che moltiplica m più 1 e qui otteniamo semplificando il 2 con il 2 1 su m più 1 nella prima posso raccogliere un meno 2 ottenendo qui m più 1 così posso semplificare m più 1 con m più 1 il 2 col 2 e otteniamo meno 1 vi faccio notare che se delta fosse uguale a 0 avremmo una soluzione doppia coincidente uguale a meno 1 ricapitolando se m uguale a meno 1 x uguale a meno 1 risultato dell'equazione lineare cioè di primo grado se m è diverso da meno 1 abbiamo che le due soluzioni sono 1 fratto m più 1 oppure meno 1 vi faccio notare che potevamo anche aggiungere l'informazione sul delta uguale a 0 in questo caso con m uguale a meno 2 oppure del delta strettamente positivo nel caso che m fosse diverso da meno 1 e diverso da meno 2 perciò questa è una vera discussione perché abbiamo considerato tutti i casi possibili quindi abbiamo anche suddiviso delta uguale a 0 da delta maggiore di 0 vi propongo ora questo esercizio cosa succede se k è uguale a 0 che abbiamo un'equazione di primo grado vediamo che cosa succede 2x k più 1 diventa 1 perché abbiamo 0 più 1 più 4 uguale 0 questo si traduce in 2x uguale 4 ovvero x uguale 2 invece se k è diverso da 0 visto che qui abbiamo un 2 il coefficiente b è pari a grande k b grande è meno 2 k più 1 mentre c è 4 ho scritto qui i tre coefficienti dell'equazione di secondo grado se k è diverso da 0 allora andiamo a fare delta quarti b mezzi al quadrato meno a perci sviluppiamo il prodotto notevole e andiamo a vedere quello che otteniamo il risultato è k alla seconda più 1 meno 2 k e questo è il quadrato di k meno 1 infatti provate a sviluppare k alla seconda più 1 meno 2 k e allora nuovamente abbiamo che delta quarti è maggiore o uguale a 0 scriviamo allora le soluzioni meno b mezzi quindi k più 1 più o meno la radice quadrata di delta quarti k meno 1 diviso a ovvero k andiamo a dividere le due soluzioni k più 1 meno k più 1 diviso k e qui abbiamo k più 1 più k meno 1 diviso k qui è k che si semplifica qui è 1 che si semplifica e otteniamo 2 su k mentre la seconda è 2 k su k ovvero 2 ricapitoliamo quanto abbiamo ricavato se k è uguale a 0 x uguale a 2 se invece k è diverso da 0 abbiamo le soluzioni x uguale 2 su k oppure x uguale 2 ragazzi intanto un'iscrizione al canale non costa nulla cliccate sulla campanella così saprete quando usciranno i nuovi video grazie a questi esercizi spero che abbiate un'idea più chiara di come si svolgono le equazioni letterali non dimenticate di lasciare un like di condividere l'esistenza del canale io vi ringrazio e alla prossima ciao